Buonasera Gentile Pubblico, questa sera a Diario di Bordo si parla di sanità dell'ospedale di Sulmona, lo facciamo insieme al dottor Gianvincenzo D'Andrea, grazie, buonasera, benvenuto, già primario della unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Sulmona, da pochissimo in pensione, ma ciò non toglie che il dottor D'Andrea ovviamente non segua con l'attenzione di medico e di cittadino quello che avviene dentro l'ospedale e soprattutto nelle stanze della Direzione Generale dell'ASL, perché poi vengono prese delle decisioni e che ancorché pubblicate sul sito, quindi messe online, non sono alla portata dei più, quindi ci vuole sempre comunque uno sguardo attento e particolare e questo l'ha fatto per noi, per la Valle Peligna Gianvincenzo D'Andrea che poi ha indirizzato anche una lettera aperta a ZAC, a questo settimanale, l'argomento è importante e quindi abbiamo deciso assieme a lui di tornarci e di offrirlo alla riflessione dei nostri telespettatori. In poche parole, dato via lei dottor D'Andrea, questo reparto che era un po' il fiore all'occhiello tra gli altri dell'ospedale di Sulmona praticamente è stato declassato, un po' smantellato e messo alle dipendenze di Avezzano, questo è un po' il succo della questione. Perché tutto questo? Francamente nelle due deliberazioni della direzione generale con le quali di fatto è stata definitivamente soppressa l'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione da mia diretta fino al novembre del 2010. Non si capisce la ragione nel senso che non c'è nessun sostegno legale per una decisione di questo tipo. Anzi, a dire il vero nell'aprile di quest'anno il Ministero del Welfare ha comunicato agli assessorati regionali alla sanità le modalità con le quali nella riorganizzazione della sanità in tutta Italia bisognava prevedere la presenza e quindi la quantificazione delle unità operative complesse negli ospedali. E in questa nota che è stata inviata dal Ministero della Sanità alle regioni viene detto chiaramente che il numero dei primari per far capire meglio che devono essere presenti all'interno di un ospedale non può essere demandato alle decisioni della direzione generale per quanto riguarda il numero, nel senso che il numero dei primari per ogni ospedale è legato al numero dei posti letto. Nell'ospedale di Sulmona per il quale la direzione generale afferma la previsione di 164 posti letto devono essere presenti almeno 9 primari perché il parametro di individuazione del numero dei primari è numero dei posti letto diviso 17,5. Allora io mi chiedo, e vorrei che anche i cittadini se lo chiedessero, siccome attualmente nell'ospedale di Sulmona, o almeno fino a che non è stata decisa la soppressione della unità operativa complessa di anestesia e di chiarimazione, erano presenti 8 primari. Per quale motivo dovendone invece nominare uno in più rispetto a quelli presenti si è deciso di sopprimerne un altro? Chi è che può rispondere a questa domanda? Il direttore generale? Io credo che il direttore generale debba assolutamente rispondere a questa domanda e debba soprattutto spiegare per quale motivo sia stata decisa la soppressione della unità operativa complessa di anestesia e rianimazione nell'ospedale di Sulmona, quando nello stesso atto aziendale questa unità operativa complessa è sempre indicata come presente ed ineliminabile. Ci mancherebbe altro, no? Ci mancherebbe altro. Ora, come io ho scritto in questa mia lettera aperta a ZAC, anche se tutto ciò che è stato fatto e si fa ancora nell'ospedale Sulmona, in questo settore specialistico, è di un livello non banale, non voglio dire altro, ma credo che da tempo ormai i cittadini della Valle Peligna si fossero resi conto che quello che veniva fatto nell'ospedale Sulmona, nell'attività di anestesia e rianimazione, era sostanzialmente una salità di buon livello, ma non soltanto nella unità operativa complessa di anestesia e rianimazione. Ci sono stati tanti riconoscimenti, è da parte dei cittadini, delle famiglie, ma anche da parte poi della stessa direzione generale, dei rettici aziendali che hanno sempre rivolto Encomi per la qualità del lavoro che veniva svolto. Allora, è ovvio che non è, come dire, una decisione legata a mancanza di qualità professionale. Non è una decisione sostenuta dal rispetto delle leggi, perché le leggi prevedono tutt'altro. Qual è l'unico motivo che potrebbe giustificare una scelta di questo tipo? Beh, l'ha indicato anche nella... Io ripeto che l'unica possibile interpretazione di questa decisione penalizzante è il fatto che, essendo presenti fin dagli anni Ottanta, nell'ospedale di Avezzano, due primari, uno di anestesia e uno di rianimazione. E questa è sempre stata una anomalia, perché non esistono in altri ospedali d'Italia, non dico della regione, ma in Italia, anche di dimensioni più grandi rispetto a quello di Avezzano, due primariati, uno di anestesia e uno di rianimazione, e invece di prendere una decisione che sarebbe stata assolutamente logica, unifichiamo anestesia e rianimazione di Avezzano, perché questa sarà la conclusione del percorso di organizzazione sanitaria. No, questo non si fa e si mantengono in vita i due primariati di Avezzano, espandendo il settore di operatività e di attività anche nell'ospedale di Sulmona. Quindi diciamo così, appunto, il reparto di Sulmona oggi è alle dipendenze dei primari di Avezzano. È smembrato nei due settori specialistici che non sono mai separati, perché la specializzazione è di anestesia e rianimazione unica. Senta, questo comporta delle conseguenze pratiche sulle attività di questo delicatissimo reparto? Le conseguenze pratiche si vedranno ben presto, nel senso che, poiché la legge attualmente assegna ai primari la responsabilità del settore loro assegnato, io credo che sarà ben difficile operare nell'ospedale di Sulmona in modo tale che la sinergia di attività e la collaborazione fra i due settori di attività continui a essere quella che normalmente è quando i due settori di attività sono assegnati per responsabilità allo stesso primario. Quindi ci saranno indubbiamente dei problemi, ma tra l'altro poi non sono problemi soltanto di natura organizzativa, ci saranno inevitabilmente anche problemi di natura economica, budgetaria, nel senso che il primario è responsabile di tutto ciò che è messo sotto la sua responsabilità e quindi apparecchiature personali, organizzazione del servizio e quant'altro. E quindi è veramente una cosa che finirà inevitabilmente per creare non pochi problemi. Quindi da unità operativa complessa a unità operativa semplice? No, è stato fatto ancora di più. La unità operativa complessa è stata praticamente riclassificata in due unità operative semplici, una di anestesia e una di rianimazione, le quali sono praticamente sottoposte alla direzione dei due primari di Avezzano. Questo è quello che è stato fatto. Sei da Sulmona per capire, faccio la domanda da cittadino. In questo momento c'è oggi un viceprimario, un responsabile, un facente funzione? Quando io sono andato in pensione alla fine di novembre del 2010, io indicai fra i miei collaboratori un collega, il dottor Giancarlo Cipriani, un collega che per la sua esperienza e per la sua competenza poteva tranquillamente dirigere il settore di anestesia e rianimazione. L'ho precisamente indicato che è stato fino al momento in cui la direzione aziendale ha deciso di sopprimere un'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione. Ora, siccome per quanto mi risulta, non soltanto all'interno della nostra ASD ma in altre ASD, nelle situazioni nelle quali ci sono state assegnazioni di responsabilità come quella che esisteva fino a qualche tempo fa per Sulmona, si è proceduta alla nomina dell'incaricato in maniera diretta, non ho capito perché non è stato nominato a Sulmona il primario che era precedentemente incaricato di funzioni, quale era il dottor Giancarlo Cipriani. Mi viene il sospetto che la cosa non sia stata fatta perché forse questa decisione doveva essere congeliale a una volontà di ridimensionamento globale della qualità dell'ospedale sul mondo. Questo ci arriviamo nella seconda parte dopo la pubblicità, dopo aver concluso proprio questo discorso. Allora, intanto ci fermiamo per un qualche attimo e poi torniamo in studio con il dottor Gianvincenzo D'Andrea, la domanda è questa, la sua lettera aperta pubblicata da ZAC7, poi ripresa quest'oggi da Diario di Bordo, benissimo perché così ovviamente viene portata a conoscenza della popolazione. Però adesso che succede? Investirà i sindaci del comprensorio, ne manderà copia al dottor Silveri, al direttore generale, quali saranno se ci saranno le prossime mosse che intende mettere in campo il dottor D'Andrea? Ma io con questo mio intervento ho ritenuto che fosse arrivato il momento di smuovere un po' le acque. Cioè non è possibile accettare passivamente ogni decisione della direzione dell'ASL anche quando si vede da subito che questa è una decisione penalizzante. Allora io credo che ognuno, i medici, tutto il personale che lavora all'interno dell'ospedale, i rappresentanti delle istituzioni della Valle Peligna, i sindaci, i parlamentari debbano finalmente porsi il problema di che cosa si ritiene o se debba essere l'ospedale sul Muna nel futuro. Perché se continuano ad essere affermate queste decisioni, l'ospedale di Sul Muna di qui a poco rischia di tornare ad essere l'ospedale di Sul Muna, della città di Sul Muna, quando all'inizio degli anni Sessanta si trasferì dalla gloriosa e storica sede del Palazzo dell'Annunziata nella struttura attualmente occupata. Il rischio non è che è un rischio così. Non è un'esagerazione giornalistica insomma. Faccio semplicemente alcune considerazioni. L'unità operativa soppressa di anestesia e rianimazione recentemente soppressa e segue la soppressione di tante altre che si sono già verificate nel passato. Di qui a poco, ormai credo che sia diventata una notizia abbastanza diffusa, un altro primario per motivi legati all'età e quindi per ragioni di pensionamento concluderà la sua carriera nell'ospedale di Sul Muna e la unità da lui diretta è già scritta nell'atto aziendale che va in soppressione e quindi praticamente si continua in maniera progressiva a depauperare l'ospedale di Sul Muna. Qual è questa unità? Urologia. Urologia, un altro delle eccellenze del nostro ospedale. E quindi di questo passo, di qui a poco, arriviamo all'ospedale di Sul Muna in cui potrebbero rimanere come unità operative presenti la medicina, la chirurgia, forse la ortopedia, forse la cardiologia e forse la radiologia. E dopodiché? Senta, ma queste decisioni vengono assunte dall'attuale direttore generale, anche lui mi pare in procinto di lasciare, di concludere il suo mandato. Dalla sera alla mattina o c'è un suo staff, o c'è un gruppo con il quale si consulta, o c'è un comitato ristretto dei sindaci che non ascolta. Come fa il dottor Silveri a prendere queste decisioni? Il dottor Silveri io credo che prenda queste decisioni perché qualcuno, o anche lui personalmente, è convinto, cioè qualcuno mi fa capire che è giusta la decisione, perché lui si convince che è giusta la decisione. Ma nei fatti così non è. E allora io credo che se non scatta un'opera di controllo assiduo da parte di tutti coloro che hanno a cuore la sanità vera, la sanità di qualità nel nostro territorio, il rischio reale è che noi di qui a poco, per qualunque problema, dovremmo emigrare per risolverlo da qualche altra parte. Allora vorrei fare un altro esempio per far capire il problema. Allora, sempre nella nota che è stata inviata dal Ministero del Welfare agli assessorati regionali e alla sanità, nell'aprile di quest'anno e dove dicevo all'inizio, viene anche quantificato il numero dei primari ospedalieri in tutta la regione Abruzzo. E mi pare che vengano quantificati in 533, 35, non mi ricordo, qualcosa del genere. E che significa che dividendo per le quattro province mi pare che sia qualcosa come 130 a provincia. Allora, se a Sulmona i primari dovranno essere 7 con queste decisioni, tra Avezzano e l'Aquila dovranno essere 125? Non si ritiene che questa sia una sproporzione inaccettabile? Nei numeri in questo caso non sono opinanti. Perfetto. Allora io credo che proprio per questo motivo questa decisione, ma anche altre che sono state prese, debbano essere riviste. Per esempio, chi ha notato che nell'ospedale di Sulmona è stata soppressa l'unità operativa di anatomia patologica e che nell'ospedale di Sulmona è presente solo e soltanto un centro di raccolta di materiale istologico. Cioè, se non è presente una struttura come questa, inevitabilmente l'attività chirurgica viene ridimensionata perché alcuni tipi di intervento non possono essere realizzati quando è necessario nel corso dell'intervento stesso conoscere subito i risultati del prelievo ma è andata ad esaminare. E questo non significherà per i professionisti, per i chirurghi dell'ospedale di Sulmona, rinunciare a determinati interventi e far spostare i pazienti in altre realtà? Allora noi dobbiamo chiudere qua, però la conclusione che ci permettiamo di fare è in questo caso il ruolo dell'informazione, che è un ruolo di controllo. Allora facciamolo insieme, noi siamo semplicemente il megafono, facciamo i cronisti, però è il primo di tanti livelli che serve poi a conoscere quello che avviene e in qualche caso ad agire di conseguenza. Io sono assolutamente disponibile perché, insomma, se è necessario in qualche modo utilizzare la mia competenza, la mia esperienza, sono disponibile. E credo soprattutto che se tutti quanti insieme, non soltanto gli addetti ai lavori, non soltanto i rappresentanti istituzionali, ma tutti i cittadini, decidono ognuno di dire basta, siamo arrivati a un punto per cui non possiamo più accettare certe cose. Io sono convinto che tante persone che dicono basta insieme faranno qualcosa di molto grande. Dobbiamo fare squadra, insomma, essere comprensorio veramente. Va bene, noi chiudiamo qui. Grazie al dottor Gianvincenzo Andrea. Grazie a voi. Grazie tante di nuovo. Grazie al nostro pubblico. Appuntamento su Onda TV con Diario di Bordo. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.